Raga, ditemi se non sono l'unico a pensare che questa 308 GT Line sarebbe perfetta per un James Bond Millennials Eccola qui, Peugeot 308 GT Line Ragazzuoli, questi sono gli interni spettacolari della GT Line Anche lei fa parte della nostra promo Ratti 007 Days Ed altronde questa 308 GT Line nera, come dicevo già prima, sarebbe perfetta per un James Bond tipo versione Millennial Sciocchezza a parte, questa 308 è una 1230 CV, benzina, chilometro zero, con cambio automatico AT8, un sacco di tecnologia Questa è veramente, veramente il top raga Scoprite la nostra campagna su rattiauto.com, trovate il link in descrizione Tantissime auto in promozione solo per pochi giorni, non fatevele scappare e venite a trovarci Bella!